Sono 47 i casi di positività al Covid-19 e 50 le guarigioni a Torre del Greco registrati durante lo scorso fine settimana. Accertato inoltre un ulteriore decesso nella giornata di sabato, la donna aveva 52 anni. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati a Torre del Greco, con 970 positivi, di cui 22 sotto regime ospedaliero, 929 guariti e 42 decessi. Il primo cittadino di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, attraverso un nuovo post su Facebook, illustra ai cittadini il bilancio dei contagiati. Sono 680 gli attualmente positivi. L'invito dunque del sindaco è alla massima responsabilità di ogni singolo cittadino, poiché la curva dei contagiati è in calo da soli 7 giorni e il mancato rispetto delle norme anti-Covid porterebbe ad un nuovo aumento vertiginoso dei casi. A Torre annunziata sono 60 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 72 ore. Al contempo si registrano anche 69 guarigioni e due decessi. 385 sono i cittadini attualmente positivi, di cui 12 ricoverati. Continuano senza sosti controlli anti-contagio da parte dei carabinieri. Massima attenzione a Torre annunziata, dove i militari della compagnia locale hanno identificato 56 persone e controllato 31 veicoli. In Corso Umberto i militari hanno sanzionato il titolare di una caffetteria, perché sorpresi un'attività di ristorazione diversa dall'asporto. Il bar è stato temporaneamente chiuso. A Castellamare di Stabbia sono 36 positivi registrati durante il weekend. Sono 17 invece le guarigioni. Nella serata di ieri è stato effettuato un servizio di controllo notturno a tappeto per tutta la città per verificare il rispetto delle norme anti-contagio. Sanzionati i nuovi cittadini che, in giro nonostante le limitazioni imposte dalle recenti normative, non avevano un valido motivo per essere in strada.